ecco i dulcinei alla loro in realtà già terza poppata sono tre maschi e tre femminucce e due maschietti dulcinea è stata bravissima adesso è un po stanca accaldata perché i piccoli devono stare al caldo e sotto c'è una pedana riscaldante che anche se ho messo al minimo per questi giorni mi è stato detto prima i primi due giorni mi sono detto di dimetterla lei è innamoratissima di tutti i suoi piccoli molto molto felice e anche noi lo siamo tanto tantissimo amaretto non l'ha ancora visti il papà perché ai papà si fa vedere quando la mamma sta abbastanza bene in buone condizioni come cosa adesso ci mettiamo un po a posto tutti e facciamo vedere anche al papà ai piccoli noi vi salutiamo vi ringraziamo tutti per esserci stati così vicini in questi lunghi momenti e volevamo rendervi partecipe della nostra gioia buona serata a tutti